Allora, ola cica, è tutto il resto? Facciamo queste cose che ci ha insegnato a fare la nostra maestra e io vi faccio vedere come si fa. Deve legare al pollicetto sto coso il filo. Mi sto concentrando. E poi le fai passare e di nuovo. E poi fai così. Figo, vero? Allora, stiamo a continuare. Dopo che avete fatto sto robo, togliete il pollice e il pollice. Oddio, aia, 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 aia. E continuate con questi cerchietti. Un cerchio, due cerchi, tre cerchi, aia, dottro cerchi. e dopo prendete un filo e l'ho tirata mi sa se ho sbagliato no non ho sbagliato ho fatto bene vedete venire sto roba state tranquilli che vedete venire così allora oddio devo continuare troppo vi faccio vedere solo il bracciale perché poi si deve continuare troppo pensate una mia amica mirto mirto illa mirtilla l'ha fatto lunghissimo perché lei è brava invece ci mette una vita scusami un momento questa ma continua questo video sta durando troppo 30 1 guardate vede venire sta ragnatela la tirate e guardate guata e si allunga la ragnatela indovinate sto video come si chiamerà collane con la lana perché mi faccio vedere la bocca guardate si può fare pure col filo col filo no voi vedete si fanno tutti sti robbi vabbè basta vi piace è bello io tolgo e basta continuo dopo se ci riesco perché per continuare va solo fatto un buco qua e poi te li rimetti dentro vita andando con la torre si robbi luccate tutto quello che ho fatto luccate 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 allora questo è un bacionato capito questo pure ah no quello è quello di prima questa è una collana capito una bella collana a doppio giro questa pure a doppio giro questo è un bracciale a doppio giro a doppio giro no questo questo deve essere uno scaldamoscoli mi hanno rovinato tutto luccate il mio bellissimo scaldamoscoli perchè per volta non si sa siamo arrivati a 5 minuti quindi adesso vi saluto ciao ah ciao e al prossimo video mettetevi un botto di like iscrivetevi al mio canale e ciao ciao